Ci sono copywriter che fanno 10-15 mila euro al mese, com'è possibile? E puoi farlo anche tu? La risposta è sì, voglio farti vedere come fare in questo video in cui faccio il Fufa Guru e ti parlo di denari e soldi e ricchezze infinite. Io sono Andrei Pascu, lavoro come copywriter dal 2019-2018, ho fatto schifo per un bel po' di tempo fino a quando mi si è sbloccato tutto nel 2020 dove ho avviato un brand di copywriting con 250.000 follower organici su TikTok, 23.000 follower su Instagram, 5.000 iscritti su YouTube, com'è possibile? Scriviti se non mi metto a piangere. E svariati progetti, un'azienda di marketing e copywriting, insomma sono abbastanza generalmente qualificato per spiegarti queste cose. Ora, sono qui a destra perché oggi voglio farti vedere una presentazione che mi sono fatto, è bellissima, l'ho fatta su Canva in circa 10 minuti ma ho messo qui dentro tutta la mia esperienza, ok? Tutta no, cioè tipo 1% della mia esperienza su come ho fatto a fare tanti soldi con il copywriting. Il gioco è questo, che nel mondo del copywriting ci sono due grandi facce, due grandi prospettive. E oggi proprio ti svelo e provo a farti capire il più che riesco in meno tempo possibile in quello che YouTube ci permette quando durate. C'è la faccia del copywriting easy, ok? Quello che fanno tutti quanti e poi c'è la parte di copywriter strategico di alto livello che fa tanti soldi. E il mio obiettivo oggi è farti capire come passare da copywriter easy, il copywriter che mette i post su LinkedIn e fa 5 like, il copywriter che va al giro negli Starbucks e fa solamente 2.000 al mese, il copywriter che se vanno via uno dei suoi clienti è finita, per lui non paga l'affitto, a diventare il copywriter che tutti quanti cercano, che tutti quanti vogliono, che è tipo un animale mistico. Ok, iniziamo allora. Intanto che significa fare soldi con il copywriting? Significa fare dai 10 ai 15.000 euro al mese. Sopra i 10.000 euro al mese è difficile, ok? È abbastanza raro. Sopra i 15.000 euro al mese è improbabile. Non dico che è impossibile, ce ne sono un sacco di copywriter che fanno più di 15.000 euro al mese, ma tu non li farai. Probabilmente, statisticamente parlando, non li farai. Se vuoi fare più di 15.000 euro al mese, devi fare agenzia. Però intanto fammi almeno quei 10.000, ok? Fai agenzia, poi ti espandi, assumi gente, lì è un altro discorso. Numero 2, devi farlo in autonomia. Perché? Perché, statisticamente parlando, e la statistica è importante, anche se i trader che guardano i grafici, quelli che ti dicono, inizia da zero con il trading, che tipo, ma se ho zero soldi in questo momento, ho 1.000 euro in banca, come faccio a diventare ricco col trading? Eh sì, puoi. La statistica, a differenza di quello che queste persone pensano, è importante. Quindi io ti faccio scegliere non quello che ti garba, ma quello che ha più probabilità di farti fare soldi. E' abbastanza improbabile che tu faccia soldi con il copywriting se fai il dipendente, tanti soldi. A meno che tu sia al top del top del top di quell'azienda. Il copywriter dipendente faceva soldi nel 1920, nei tempi di Claudio Hopkins e Bernbach. Adesso il copywriter che fa soldi generalmente è quello autonoma, ok? Quanti clienti ti servono? Ti servono dai 2 ai 5 clienti al mese, ok? Per avere questi risultati. E il terzo punto è avere costi estremamente bassi. Il copywriter ha comunque costi estremamente bassi perché non hai nessun software da pagare importante, nessun dipendente, se vuoi avere un ufficio prenditelo però a che ti serve. Quindi i costi con il copywriter sono bassi e li teniamo bassi in quello che ti spiego oggi perché la vera ricchezza chiaramente non è quanto fai ma è il netto che ti prendi, che ti porti a casa. Chi lo può fare? Allora ribasi chiunque. Non c'è motivo per cui tu non possa fare copywriting e fare tanti soldi ma devi essere correttamente posizionato. Non puoi farlo se non ci sono rispetti specifici requisiti che ti dico tra poco. Cosa intendo per posizionamento? Intendo che devi fare un buon marketing. Per marketing intendo che devi saperti vendere, ok? Devi saper convincere le persone che ne vali la pena. E devi fare ottime scelte di target e servizio. Il target e servizio, penso tu sappia già cosa sono, il target è a chi rivolgi il tuo servizio e il servizio è cosa offri effettivamente. Quindi se fai sales page, se fai le ads, se fai le email. E poi devi avere un ottimo servizio. Ottimo servizio che significa? Significa che vendi, ok? L'unica cosa che rende il tuo servizio ottimo, cioè diciamo il 99% di un buon servizio quando si parla di copywriting è vendita. Poi l'1% è tipo fare un po' lo psicologo al cliente di base. Ora parliamo del punto che secondo me è più dolente. Per fare soldi col copy devi fare copy e devi fare vero copywriting. C'è questo limbo nel quale si intrappola da solo il copywriter principiante ed è il limbo in cui su LinkedIn c'è scritto che tu sei un copywriter, ma direi vero fai articoli e fai blog. Perché? Perché ancora non hai capito, non stai riuscendo a chiudere clienti veri. Ok? Clienti per copy reale. Ora non ho niente contro chi scrive articoli, però diciamoci la verità, sono stati un po' sostituiti da tutt'altro. Quindi 2020, periodo in cui si scrivono gli articoli SEO, è completamente passato. Il copywriter SEO è una figura che non esiste. Possiamo fare tutto un discorso su quello. Adesso ho fatto incazzare mezza Italia, ma è la verità. Il copywriter, quello che si fa pagare tanto, ok? Quello che tu vuoi essere se vuoi fare soldi, è il copywriter che fa vero copy. Cos'è il vero copy? È qualsiasi testo che ha l'esplicito obiettivo di vendere. C'è proprio che l'unico motivo per cui lo crei è per vendere. Se non vende è una merda. Se vende è buono. Quindi non è articolismo, non è blogging, non è social media management, non è scrivere post per Instagram, a meno che vendano, eccetera. Attenzione, non devono forse vendere. Del tipo che mettiamo un post su Instagram, vediamo se vende, poi se non vende non muore nessuno. No. Devono vendere. Perché se non vendono il marketing va a puttane. E tu dici, Andrea, questa cosa mi mette ansia. Grazie al cazzo ti mette ansia, è questo il gioco. Che tu hai una grossa responsabilità nelle mani, di conseguenza vieni pagato tanto. Non puoi aspettarti di farti pagare tanto se tu fai articoli che non cambia niente se vanno bene o male. Se tu fai Canva post per Instagram, che se vanno bene vabbè, se vanno male vabbè. Devi avere in mano la grossa responsabilità del io faccio differenza tra 10.000 euro e 20.000 euro. Devi essere quel tipo di copywriter lì. E se questa cosa ti mette ansia, il copywriter non è per te. Chiaramente se tu ti formi bene, hai l'esperienza giusta, non hai seguito dei fuffaguri ritardati, ma hai studiato vero copywriting, sai quello che stai facendo. Allora in quel caso non è difficile gestire questa responsabilità. Io la gestisco da quando ho tipo 18 anni, adesso ne ho 22 e sono ancora vivo, ok? Quindi non è difficile se sai scrivere copy, se sai le regole dei copy. E chiaramente devi essere bravo come copywriter. Che significa essere bravo? Vendere. Punto. Ora, questo è il punto più importante. Il copy che fai deve essere strategico. Guarda le differenze tra un copywriter qualsiasi e un copywriter strategico. Alla seguente. Un copywriter scrive quello che gli dicono di scrivere. Il classico copywriter di LinkedIn con 5 like a post che dice che ieri è stato in centro a Milano, ha visto un bambino inciampare e questo gli ha fatto pensare alla tua ultima sales page con CR di 2.5%. Complimenti. Il copywriter normale si fa dire cosa fare. Nel senso che va lì, c'è l'imprenditore e gli dice, senti ci serve una sales page, facci la sales page. Lui la fa, si può pagare 500 euro, è fantastico a post. Non è male, non c'è niente di sbagliato, ma i veri soldi stanno nel prossimo livello. Nel copywriter strategico. Il copy strategico scrive ciò che sa che porta risultati. Di conseguenza è altamente coinvolto, e ora ti spiego queste cose quindi sei un po' confuso, stami dietro. È altamente coinvolto nelle decisioni strategiche e la sua opinione è rispettata dai suoi collaboratori. Quindi è in una call con il CMO, con il graphic designer, con il media buyer, con il consulente, con altre 5 persone. E queste 5 persone rispettano la tua opinione e chiedono la tua opinione e vogliono sapere cosa ne pensi. Di conseguenza diventano anche un consulente. Quindi il copywriter strategico è anche in parte un consulente. Non è un consulente vero e proprio perché non fa quello, ma si fa pagare anche per un lavoro di consulenza. In una campagna, facciamo che questa azienda con cui stai lavorando, con cui tu stai lavorando, sta lanciando una nuova campagna di marketing e deve vendere 100.000 per questo mese. E fanno una call tutti quanti insieme felicemente, tu sei in questa call e tu dici guarda ragazzi secondo me qui dobbiamo fare una sales page. Ragazzi secondo me qui bisogna fare questo tipo di ads. Facciamo 5 ad set qua, 5 ad set qua. Quindi tu proponi quello che andrebbe fatto secondo te e secondo la tua esperienza. Ti spiegherò bene come si arriva a questo livello perché non è facile. Non è facile non perché è più difficile da spiegare che a farsi. A farsi semplicemente ci vuole qualche mese, ci vuole lavorare tanto, ma non è difficile perché è un'evoluzione naturale finché spingi, sei estroverso o provi ad esserlo. Io non sono estroverso in natura ad esempio, sono estroverso perché mi forzo ad esserlo. Ma perché il copywriter strategico fa più soldi? Cioè cos'è che il copywriter strategico fa? Perché lui prende decisioni di marketing, prende decisioni strategiche che fanno differenza tra tanti soldi, meno soldi e pochi soldi. Questa abilità del sapere cos'è che fa differenza tra tanti e pochi soldi è rara. Perché se tutti quanti sapessero farlo sarebbero tutti quanti meno di soldi. Invece non mi pare che voglio Lidl e vedo gente ricca. Non mi pare proprio. Quindi differenza tra il copywriter strategico e il copywriter normale è che il copywriter strategico è molto raro. Se sei raro, sei insostituibile, quindi vieni pagato di più. Se devi metterla in parole povere, cioè proprio parole idiotiche, il copywriter strategico fa più soldi perché ne sa di più. Sa robe più rare. Ora, come si diventa il copywriter strategico? È un'evoluzione naturale come ti ho detto. È una cosa che ci arrivi con il tempo, quindi se non ti è chiaro tutto adesso, numero uno, compra il mio corso Copywriting Mentorship, l'hai visto in basso a destra il logo tutto il tempo, compralo. Ok, ti insegno un sacco di cose dentro, ti metto giù uno step by step. Ma numero due è una progressione naturale. Ci arrivi con il tempo e non è che è automatico, ma finché metti i tuoi effort nella direzione corretta, verrà fuori. Il modo in cui questo succede è perché progressivamente con il tempo ti fai sempre più coinvolgere nelle decisioni per le campagne di marketing. E se sei bravo, sarà l'imprenditore, anche come copywriter normale, sarà l'imprenditore stesso a dirti, oh e Andrei, cosa ne pensi di questa cosa che stiamo facendo? Andrei, stavamo pensando di fare qui un ad, però non siamo sicuri. Dici cosa ne pensi. Ci sei per una call veloce? E tu dici sì, ci sono per una call e per la prima volta loro hanno chiesto consiglio a te ed è quello che tu vuoi. E con il tempo questo diventa un... Andrei, dobbiamo lanciare una nuova campagna di marketing, domani ci sentiamo tutti quanti in call, volevo sapere se fossi disponibile per aiutarci a decidere. Tu dici, certo, assolutamente. Ed è lì che viene fuori il copywriter strategico. Quindi il copywriter strategico ci arrivi facendoti progressivamente coinvolgere sempre di più nella pianificazione delle campagne di marketing. A quel punto quindi stai anche vendendo la consulenza che tu li fai. Quindi io quando faccio una campagna per ogni cliente, ci metto 1000 euro per la preventiva, no, 1000 euro per la sales page, 500 euro per le 5 mail, le post su Instagram di vendita mettiamoci 50 euro a post e ci metto 550 euro di consulenza, un'ora, due di consulenza. Quindi quella parte è la call strategica. Alcuni consigli prima di lasciarti, ok, importanti, ne ho otto adesso per te. Scegli i clienti giusti. Ci sono nicchie giuste e nicchie sbagliate. Le nicchie sbagliate sono quelle satore, di base, ma ci sono alcune categorie in cui è più facile trovare quando un imprenditore è in una nuova campagna, quelle che sono più pubbliche. Esempio, se tu sei con un'azienda che lavora in una nicchia, che non fa ads su Facebook, farei molta, molta più fatica a capire a che punto della campagna loro sono o a che punto della loro esistenza di marketing sono. Se tu hai una pagina, facciamo che tu lavori con un'azienda X, e l'azienda X mette tutti i post sponsorizzati quando inizia la campagna. Tu su Facebook Art Library lo vedi, vedi tutto quello che loro fanno. Quindi scapisci subito, ah ok, hanno appena lanciato una nuova campagna, magari posso proporvi per aiutarli a gestirla. Quindi i clienti giusti quali sono? Sono quelli che hanno un marketing pubblico e non privato. Chi è che ha un marketing privato? Quelli che vendono servizi molto molto di nicchia. Ad esempio, un'azienda di pianificazione industriale per aziende agricole. È un po' troppo specifica, farei un po' fatica a capire quando è che hanno bisogno e quando no. Due, investi in formazione di livello. Ti sto dicendo non andarmi ai party. Basta eventi del cazzo in cui vai lì e balli. Che cazzo vai a ballare l'eventi? Devi diventare ricco, non so se qui per questo. Vuoi diventare ricco o no? So che sembro un guru, però l'idea è questa, no? Vuoi fare tanti soldi, diventare ricco, cazzo vai a ballare gli eventi. Non andare ad eventi di networking se non fai networking. Quindi se mi vai ad un evento per conoscere persone, vai lì e conosci persone, non mi stare sul telefono. Quindi per formazione di livello intendo questo. E se compri un corso di copywriting, io ti consiglio il mio in italiano, in inglese magari ce ne sono altri se ti interessa. Ma copywriting mentorship penso che sia il migliore in Italia. L'ho fatto apposta, l'ho studiato come un cane quando l'ho fatto. Sono 150 lezioni. Compreso anche come trovare clienti comunque. E non solo copywriting, anche su marketing. Quindi se devi scegliere un corso, scegli. Allora se scegli un evento da vivo non mi prendere gli eventi in cui ballano e fanno i team bonding e quelle minchiate lì. Non ti serve motivazione, ti serve saper scrivere copy. Ok? Ehi, basta cazzate se vuoi fare soldi col copy. Se vuoi contare l'affare di un lavoro al mese o quello che tu fai adesso, vai a ballare negli eventi. Secondo, se compri corsi di copywriting o robe del genere, prova a prendere quello che per i tuoi soldi ti dà la più completa formazione di copy possibile. Cosa intendo per copywriting? Intendo anche quello che sta intorno. Quindi non solo scrivi con Aida, ma proprio come prendere decisioni strategiche. Ti faccio un esempio. Con il mio corso, perché sto vendendo questo, sto cercando di convincerti a comprarlo, quindi faccio vedere questo. Se vuoi comprare un altro, compra un altro. Però guarda chi abbia un po' di queste cose, ok? Devi avere, numero uno, la propaganda politica. Perché? Perché se tu capisci propaganda politica, capisci come a livello di masse, le persone vengono convinte a prendere certe decisioni. Due, marketing etico. Tre, cos'è un funnel e come funziona il funnel. E quattro, una completa overview di tutta la terminologia del copywriting. Ok? Devi sapere ogni singolo termine possibile che c'è nel copywriting, devi saperlo, ok? Anche nel marketing. Funnel, ads, ROI, ROAS, CPA, CPL, tutto. Perché? Perché se non sai un termine, fai una figura di merda quando sei in call. Non può essere in call strategica, sentire che parlano di CPA e devono abbassarli e tu non sai che cazzo è un CPA. Comunque sta per cost per acquisition. CPL sta per cost per lead. Cinque, come extra, devi avere una buona formazione sul copy. Quello è più o meno, penso che la maggior, spero per la maggior parte dei corsi, che c'è una buona formazione sul copy. Generalmente impari a scrivere copy in un corso di copy, il minimo è quello. Però deve essere completo, deve essere veramente tutto, non solo AIDA, non solo scrivi un titolo che tira l'attenzione e non solo formule. E deve anche averci l'AI, ok? Intenza artificiale, perché si usa l'AI. Non si scappa dall'AI, si usa l'AI. Terzo punto, impara a fare domande. Impara a fare domande mirate e specifiche, perché ti dico, quelli che sembrano bravi sono quelli che fanno domande. Spesso non sono manco bravi, però sembrano bravi perché fanno domande mirate. Sono in call col cliente, gli chiedo, ah ok, quindi tu vorresti abbassare il CPA, però permettimi di farti una domanda. Qual è il CPA che tu vorresti ottenere per avere il migliore profitto da questo? Perché voglio capire se è realistico oppure no. Mi fa, è vorrei avere un CPA di 2 euro. Guarda, CPA di 2 euro per la tua categoria, questa roba B2B è irrealizzabile. Possiamo puntare su un CPA di 10 euro, che è il più realistico, e tu puoi fare così. Volevo chiederti se un CPA di 10 euro per te è accettabile oppure se non è negoziabile. Io ti fa, non è negoziabile. Ti fai, ok, non c'è un problema. Possiamo fare queste 5 alternative. Guarda qua, alzi in questo modo, andiamo su Facebook anziché su LinkedIn che i costi sono minori, andiamo su YouTube e facciamo l'organico. Che ne pensi? Mi fa, ah ok, considero queste cose. Cioè, vedi, questa simulazione di merda che ti ho appena fatto è, oh mio Dio, questo qui sa esattamente cosa vuole e sa cosa propormi come alternativa. Infatti, punto numero 4, impara a gestire qualsiasi dubbio e qualsiasi obiezione improvvisando. Tu vieni pagato tanto quando risolvi i problemi. Tipo, se tu mi compri il Copywriting Mentorship, io ti risolvo 90% dei problemi che tu hai col Copywriting. Perché ci sono le consulenze nel corso. Quindi, qualsiasi cosa venga fuori, te lo risolvo io in call, perché sono le consulenze. Ti risolvo un grosso problema. Di conseguenza, mi paghi per il corso. Se io ti vendo una batteria, mi paghi perché ti risolvo un problema. Quindi, più è grosso il problema che risolvi, più ti pagano. Questo probabilmente lo sai già. Spero che lo sai già, se no, che copywriter sei. Tu devi essere uno che risolve problemi e loro devono guardarti e pensare, questo qui mi aiuta. Cioè, devono vedere te come una figura che li aiuta a risolvere problemi. Quindi, devi saper rispondere a domande. Se loro cominciano magari a parlare tra di loro, ragazzi, non sappiamo proprio come ottenere, non abbiamo budget per le ads in questo momento. Cioè, non possiamo spendere 1000 euro al giorno per le ads, ma i nostri competitor lo fanno. Cazzo, non sappiamo proprio cosa fare. Te devi essere quello che propone una soluzione. E tu mi dirai, Andrei, ma io non sono un genio. Che cazzo c'è? Non sono un mago. Devi diventare un mago. Devi diventare quello che tira fuori delle soluzioni incredibili che nessuno si aspettava. E si può fare. Ok? Non devi essere tipo un genio. Devi semplicemente avere le rispette giuste, studiarle cose giuste, approfondire e non fare gli eventi in cui balli. Prossimo consiglio. Lavora a campagna, non a singolo copy. Questo l'avrai già capito. Perché te l'ho spiegato prima. Lavora per una campagna, quindi fai pacchetti. Ad esempio, ok, tu hai bisogno di 5 ads per 3 sales page con AB per ognuna per 3 prodotti. Fantastico, andiamo. Quindi fai un pacchetto di 70 miliardi di euro. Prossimo consiglio, parla di ROI e non di copy. Prima di ROI e poi di copy. Quindi metti sempre avanti quello che tu porti come risultati e poi quello che fai per portare quei risultati. Quindi se lui dice, guarda, signor copywriter, vorrei abbassare i costi delle ads. Tu fai fantastico per abbassare i costi delle ads. Ci serve qualcosa che ottenga questo e ciò che ottiene questo è il copy. Quale tipo di copy? Questo copy specifico. Quindi sempre prima il problema che risolvi e poi il copy. È come quando scrivi un copy per un prodotto. Fai prima il problema e poi la soluzione. Uguale quando tu parli di copy. Prima cosa fai? Cioè qualcosa risolvi? E poi cosa gli dai per risolverlo? Ovvero il copy. Sette, sì, 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 sempre, sì, caso, sì, sempre sharp, sharp e appuntito. Cioè in inglese ero in call, ero tutto in giacca e cravatta con un cliente e mi fa, you're so sharp today. Grazie, thank you bro. Sharp significa essere witty, essere veloce ed essere conciato bene. Non devi essere in giacca e cravatta se non ti garba, però più sei fisicamente preparato, non è che devi essere grosso, grande palestrato, no, però intendo fisicamente devi essere il tipo che guardano e dicono ah ok, questo qui ci sta. Devono avere quel rispetto di prima impressione positiva. Vestiti recentemente, se li vedi dal vivo, lavati i denti, profuma bene, insomma, tutte quelle basi di essere sharp. Importantissimo, non mi andare in call contro luce col quadruplumento e col microfono là. Ciao, pagami 5.000 euro. No, non accadrà mai. Ultimo è sì estremamente positivo. Non positivo nel senso di abbracciare gli alberi come gli hippie, del tipo sorridere costantemente in tutte le call. Penso che vedere me che sorrido sia stato un trauma per te. Buona fortuna con lo psicologo. Intendo essere sempre della parte di quello che risolve problemi. Quindi anche quando un cliente non è contento. Facciamo che un cliente ti fa guarda hai performato di merda, fa cagare il copy e tu gli fai nessun problema. Ecco cos'è che voglio proporti per risolvere questo problema. Bam 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 bam. Se hai domande lascia il commento. Se invece vuoi iniziare col copywriting o comunque passare al prossimo livello come copywriter, io ti consiglio vivamente di dare un'occhiata al copywriting mentorship. E in promozione in questo momento ci sono due versioni di questo corso e la versione è quella che costa di più. La puoi anche pagare a rate. In questo momento in promo fino al 30 settembre costa 400 euro o meno, costa 999 e ha consulenze illimitate con me se prendi la versione 999. Se non vuoi pagare 999 euro puoi anche pagare la versione base che ha una sola consulenza con me. Ragazzi quiz, riassunti, pdf, accesso al gruppo telegram, c'è veramente tutto quello che ti serve. E se poi vorrai le consulenze limitate fino al 30 settembre puoi anche fare l'upgrade pagando solo la differenza. Fatti un po' un giro sul sito, anche se dici oh no è un fuffagurro, oh mio dio vende corsi. Dai un'occhiata alla pagina perché sarai sorpreso da quello che ti voglio offrire con il corso. È veramente veramente fuori di testa, è killer. E basta, dai un'occhiata, compralo e ci vediamo in cm. La svolta sta quando impari le cose pratiche e reali, non quando vai agli eventi a ballare. Va bene? Ciao!